Credo che il 9 daremo vita a uno dei progetti più belli, a uno degli eventi più memorabili della storia della nostra città. Siamo fieri e orgogliosi in quel giorno di ospitare migliaia e migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia in una grande e straordinaria manifestazione artistica intorno alla musica nella piazza più bella di Napoli che conclude un grande progetto pedagogico. Ringrazio il Presidente della Repubblica che ci ha mandato un regalo inaspettato, una bellissima targa a suo nome per questo progetto e soprattutto vorrei dire a tutti i cittadini di Napoli quel giorno, visto che l'Italia intera ci affida i suoi ragazzi, di dare una grande mano e di collaborare. Quasi due anni di preparazione, centinaia di gruppi corali, studenteschi e amatoriali, 12.846 studenti di ogni ordine e grado, ma anche giovani e adulti, si sono dati appuntamento tutti da 17 regioni e 63 province d'Italia a Napoli il prossimo sabato 9 aprile in piazza del Plebiscito per cantare brani di Verdi, Mozart, Handel e Charpentier, oltre a Michel e Itevria Vassà. È il più grande concerto di canto corale a più voci della storia, un progetto ideato e coordinato da Renato Parascandolo con la direzione artistica di Sergio Siminovic. È la piazza incantata, un massive flash mob di grandissime proporzioni pronto a invadere la città. Non c'è mai stato un evento di questa portata, 13.000 bambini e ragazzi in un unico coro, in un'unica orchestra, in un unico canto, in un'unica iniziativa musicale. Le scuole di tutta Italia, in particolare circa 6.000, sono della nostra città, con il conservatorio, con i maestri, in piazza Plebiscito. Napoli vuole dimostrare che i momenti storici difficili si affrontano con la gioia, con la musica, con la cultura, andando oltre ogni confine. Noi avvertiamo la potenza della musica, la potenza della cultura, la potenza della scuola e la potenza dei nostri giovani, nella città che oggi è la città d'Europa con il più alto numero di giovani. Noi in questi cinque anni abbiamo dimostrato enormi capacità organizzative, con eventi molto importanti di livello internazionale, da quelli sportivi a quelli culturali, dalla visita del Papa a eventi complicati. E abbiamo sempre dimostrato grande capacità di collaborazione con qualsiasi istituzione, coinvolgendo la città. Ecco perché qui c'è una visione politica, come abbiamo detto, non è solo un evento. E' la volontà di organizzare questo evento, che ci è voluto un anno, grande collaborazione, grande pazienza, grande spirito di armonia e di squadra, come insegna l'orchestra. L'orchestra c'è un direttore d'orchestra e ci stanno i maestri tutti che suonano, ognuno ha il suo ruolo nell'ambito di una squadra. Nessuno stona. Crediamo tutti che con la cultura si sta riscattando Napoli. E questo è il messaggio che vogliamo dare al mondo, con i nostri piccoli, con i nostri giovani, con i nostri giovanissimi e con la nostra alta, in particolare con la nostra musica.